Non mi ricordo cosa devo dire Pietro, ascolta io No, aspetta, riso Sì, quando vedi che per un po' non parli Spero che stessi sbagliandomi Che è? Aspetta Vai, vai, l'anità ronda, no, eh? No, perché? Impazzirei se succedesse qualcosa Dai, 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 dai Vai, vai Buona, buona Impazzirei da lì, eh? Dai che ti vengono le lacrime, almeno Almeno piangi, va bene, va bene, gli occhi lucidi vanno bene Ok Eeeh, impazzirei da lì, eh? Ci sei? Vai Aspetta che è A lei Non mi fai ridere Eeeh, vai Impazzirei se ti succedesse qualcosa Adesso la vedo